non vengo c'è il diluvio inventerei qualunque scusa per godermi la freschezza di lenore ammorbidenti insieme a lenore perle che profumo i feel good in lenore che aceto usi boh odame a satanate saltiste e questo il condimento da doprare per essere nello fitness primatiste mele d'italia anvirturare e ponti vuol sol quelle per suo aceto e se non credi qua le puoi tracciare se ad amo conosce a un cotal segreto a eva le comprava questa aceto bruno secondo me per te che ami il design sky glass è perfetta guarda sono molto esigente poi mi dirai laura avevi ragione la tv è perfetta verde ton su ton con le mie piante ma non innaffiarla è arrivata sky glass e la tv non è mai stata così bella cinque colori unici e un design all'avanguardia puoi averla 11 euro e 90 al mese sky glass molto più di una tv chiamaci all'141 scoprila su sky.it o nei negozi sky quando torni dal lavoro ordina un globo l'ingrediente che ti manca è su globo sei finito i pannolini vai su globo ordina ciò che vuoi e balla come vuoi ding dong globo ding ding dong globo globo tu ordina ci andiamo noi sai che ho comprato una casa adorabile su subito ma che ti immagini su subito trovi di tutto anche migliaia di case villa appartamenti in vendita e in affitto cambia casa con subito noi di polis ceramiche da 40 anni produciamo rivestimenti per ogni spazio abitativo per immaginare come sarà la tua prossima casa vieni nei nostri show noi siamo pronti a sognare con te polis ceramiche anteprima casa fuori casa come puoi avere più protezione dai virus con il nuovo amuchina spray disinfettante per oggetti più amuchina gel x germ per le mani più protezione ogni volta che serve un igienizzante rimuove in parte virus e batteri i disinfettanti amuchina li eliminano fino al 99,9% da amuchina più protezione quando serve da angelini farma naso chiuso quando il naso è preso di mira da virus e batteri per non rinunciare ai momenti di gioia puoi agire rapidamente e provare rinazzina acqua marina grazie alla forza della sua acqua di mare e la sua triflazione decongestiona idrata la mucosa e aiuta a rimuovere virus e batteri per tornare a respirare meglio senza medicinali rinazzina acqua marina da solo con selfie o con un family banker mediolanum è come vuoi tu diventa cliente mediolanum se accrediti lo stipendio puoi avere il 2% anno banca mediolanum costruita intorno a te nasce una nuova Genertel più semplice e personalizzabile se acquisti una nuova polizza auto o moto direttamente su genertel.it per te 25 euro di sconto prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it Genertel, facciamola semplice il sistema TG.com 24 si conferma vincente è il sistema multimediale di informazione più visitato in Italia per il quarto anno consecutivo TG.com 24.it è la testata di informazione online italiana più seguita dai lettori è leader per numero di video visionati tempo di permanenza sul sito e fruizione di testo e video da mobile è in costante crescita sul web e mobile con più di 3 milioni e 500 mila lettori al giorno sul sito 150 milioni di video visti ogni mese e oltre 5 milioni di followers sulle piattaforme social TG.com 24 con TG.com studio aperto, sport mediaset e il canale All News insieme al TG5 è scelto dal 64% degli italiani TG.com 24 nel nuovo hub tecnologico dell'informazione è un sistema unico e vincente allena la felicità FITACTIV il fitness per tutti TG.com 24 Rekki News Mosca annette le regioni ucraine sottoposte al referendum domani cerimonia ufficiale con Putin dalle 24 Helsinki chiuderà la frontiera orientale i russi potranno entrare in Finlandia solo per motivi dimostrati di lavoro, di salute o visite ai parenti scoperta una nuova perdita di gas la quarta falla dopo le esplosioni alle linee di Nord Stream 1 e 2 lo rende noto la guardia costiera svedese dura l'alleanza atlantica che definisce quanto accaduto nel Baltico sabotaggio sconsiderato già in forte ribasso fino a oltre metà seduta le borse europee allargano le perdite dopo il balzo dell'inflazione tedesca e i dati USA sul PIL del secondo trimestre Milano la peggiore, meno 2,1% fiducia dei consumatori europei a picco in Italia scende di 3,7 punti fermata per omicidio la fidanzata di Mattia Caruso trentenne del padovano accoltellato nella notte di domenica la coppia era ai laghi di Sant'Antonio l'omicidio durante una lite fuori da un locale la ragazza ha confessato usato un coltello a serramanico fermato un collaboratore scolastico per l'omicidio a Melito nel napoletano del professor Marcello Toscano trovato morto in un'aiuola dell'istituto in cui insegnava tracce ematiche sugli indumenti sequestrati a casa del sospettato il movente sarebbe economico in sette giorni più 34% dei contagi da covid più 4,5% per i ricoveri ordinari in calo terapie intensive e decessi lo rileva il monitoraggio della fondazione Gimbe relativo alla settimana 21-27 settembre l'incremento riguarda tutte le regioni italiane queste le breaking news per continuare a seguire le notizie in tempo reale scarica la app di TG Com 24 le 16.36 ben trovati in diretta con l'informazione di TG Com 24 in primo piano ciao 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 ciao